ciao a tutti piacciono i video che faccio quando accendo i motori rimediati da vecchie auto adesso salvatore ma rimediato l'ennesimo motore e ventola di un radiatore di un'auto questo abbastanza grandino non so da dove venga e lo accendiamo dai facciamo st'altra cosetta va potuto riparare il mio alimentatore brucia tutto pronti via laggiù all'interno dell'alimentatore ho messo uno stoz da sedia comunque funziona alla prossima grazie a tutti